I frutti, virtù e opere buone. Ecco, figlia mia, che dopo i fiori vengono i frutti. Essi sono le virtù di cui devi adornare l'anima, e le opere buone di cui devi riempire la tua vita. Comincio con l'additarti e farti penetrare in quel santuario intimo, che ospita la Santissima Trinità, per farti capire la necessità di raccoglimento di cui ha bisogno l'anima. Raccoglimento interno e qualche volta anche silenzio esterno, per poter intendere la voce di Dio e i Suoi desideri. Il silenzio è un sacrificio per chi è abituato al chiasso del mondo, ma è una musica per chi desidera aderire con semplicità e con serenità alle cose di Dio. Nel frastuono non è possibile ascoltare e dialogare con questo Padre infinitamente buono, che non desidera altro che le vostre richieste d'amore, per riempirvi di esso il cuore. Il raccoglimento è come un incontro solitario dell'anima con lo sposo celeste, del figlio col Padre. Nulla riesce penoso, quando l'abitudine al silenzio e al raccoglimento fa vivere alla presenza continua di Dio. Nella solitudine, che tanta tristezza porta alle persone, né il silenzio ombroso di misantropi e astiosi, hanno nulla a che vedere con il silenzio ricercato per poter meglio parlare con Dio, e con l'estraniarsi dal mondo per comunicare col cielo.